costruire applicazioni con microsoft access questo è l'argomento tra l'altro del nuovo corso che è già in produzione che dovrebbe vedere la luce entro un paio di mesi quindi corso avanzato di microsoft access in questo numero di gennaio della newsletter utilizzare access per davvero introduciamo quindi l'argomento dandovi alcune tecniche per realizzare un'applicazione che cos'è un'applicazione un'applicazione è un database è sempre un database ma è un database diciamo che appunto presenta delle particolarità nel senso che nasconde per esempio le barre all'utente ha delle maschere di avvio temporizzate avrà dei menu avrà dei meccanismi di poi non solo questo dal punto di vista estetico ma meccanismi di sicurezza bisognerà controllare se il database è in replica oppure no la replica è come vedremo una copia di un database che viene utilizzata tipicamente per il lato client quindi parliamo di applicazioni in rete eccetera quindi ci sono diversi aspetti che distinguono in sostanza un'applicazione professionale basata su access da un database attrezzato per avere un database attrezzato intendiamo un database ricco di maschere di report quanto si vuole però che non è un'applicazione prima di tutto perché non nasconde il codice all'utente finale o comunque le barre di le barre multifunzione di access delle finestre laterali quindi vediamo ora in questo primo esempio che si chiama maschera avvio temporizzata avete che vi ho legato al numero prima cosa da fare è per aprirla senza cioè per andare a vedere gli oggetti perché chiaramente adesso è già c'è una macro auto exec che quando fate doppio clic parte si vede la maschera iniziale però non vedete assolutamente più la finestra database di access per vederla chiaramente perché voi siete i programmatori non utenti finali ok bisogna vedete qui ho preparato questa simulazione tenere con il ditino della mano sinistra premuto il tasto shift il tasto shift e sulla tastiera italiana è quello immediatamente sopra il contro ok quindi sull'estremità sinistra in basso a sinistra della tastiera shift quindi tenentolo premuto quindi non basta cliccare una sola volta o pigiarlo una sola volta ma bisogna tenere premuto il dito su questo pulsante mentre con il mouse fatti doppio clic sul database in questo modo ecco vi ho spiegato si apre il database maschera bio temporizzata senza far partire la macro la macro auto exec notiamo subito che se andiamo in strumenti non cioè scusate in file opzioni questo è access 2010 ma 2013 dovrebbe essere simile in database corrente vedete che l'oggetto che viene fatto partire per primo è la maschera finestra iniziale che è una delle tre che ora vedremo quindi la finestra di partenza è la finestra iniziale che la faccio vedere è questa per intenderci quella che presenta solo un'immagine ok quindi in inglese è detta form splash o splash form ok quindi di solito c'è un'immagine un logo dell'azienda che ha prodotto magari l'applicazione oppure dell'azienda a cui si riferisce l'applicazione con il copyright e basta questa di solito è una maschera temporizzata cioè dopo un dato numero di secondi si chiude da sola e poi farà comparire o il menu principale dell'applicazione da cui poi si può accedere agli archivi alle tabelle alle maschere ai report ovviamente per intenderci oppure ad una seconda finestra come vedremo richiameremo introduzione che presenta una casella di spunta non mostrare questa maschera in futuro e se cliccare dall'utente fa sì che viene salvata un'impostazione insieme al database e questa maschera insomma non viene più mostrata quindi si passa dalla splash form direttamente al menu ok vediamo come realizzare tutto questo è chiaramente definire una finestra iniziale è facile basta impostare come sfondo di una maschera semplice una immagine definire la modalità ritaglia ok ritagli in questo caso può essere il zoom dovete fare le vostre prove a seconda della dimensione dell'immagine come si adatta le cose importanti sono queste che allora la proprietà stile bordo è impostata su nessuno perché non deve comparire nessuna barra del titolo e nessun alcun pulsante di ingrandimento riduzione selettore record no pulsante spostamento vanno impostati su no ingrandimento riduzione vabbè questi si possono lasciare su entrambi tanto avendo definito stile bordo nessuno non verranno visualizzati comunque e poi ecco queste sono le proprietà fondamentali quindi è una maschera di dialogo con il bordo nessuno ok allora la proprietà invece importante è l'opietà intervallo timer o meglio l'evento su timer vedete andate sulla proprietà sulla mascherina la finestra di dialogo delle proprietà nella sottoscheda evento cioè sul timer andiamo a fare clic sui tre puntini e vediamo ecco vedete cosa succede quando parte la maschera la maschera si avvia con il load eccetera quindi viene visualizzata però se nella routine timer c'è un intervallo maggiore di zero e quindi è stato impostato qui dalla autoexec e l'autoexec a sua volta lancia una funzione che sta nel modulo 1 che imposta l'intervallo a 5.000 millisecondi cioè 5 secondi quindi in sostanza la prima volta che scatta routine font timer è trascorsi 5 secondi dalla sua visualizzazione a questo punto la proprietà timer interval viene portata a zero in sostanza non scatterà più scatterà solo una volta questo evento e questa è la clessidra che viene impostata su face quindi su normale prima era su clessidra e poi ecco viene valutata la proprietà visualizza finestra iniziale che è stata impostata dalla routine lanciata nell'autoexec ok ora vedremo in sostanza se l'utente ha detto non mostrarmi più la finestra di dialogo viene si va direttamente al menu principale altrimenti si visualizza la maschera intermedia introduzione ok andiamo a vedere l'autoexec e cosa fa quindi vedete l'aspetto della cioè il duplice combinazione dell'effetto della macro autoexec e della finestra iniziale con il timer determina già delle cose che insomma differenziano un'applicazione da un database attrezzato vediamo subito che le altre cose salienti che fa l'autoexec ecco vedete l'autoexec è un fatto che chiamare una funzione che sta nel modulo 1 che si chiama disabilita bar instrumenti cioè dicevo l'altro aspetto è quello appunto di nascondere l'utente infatti se non fate shift avete visto già che vengono nascoste in tutte le barre e quindi non si può più accedere al database allora nel modulo 1 c'è questa funzione che si chiama disabilita bar instrumenti vedete che cosa fa fa un 4 doc md shuttle bar ribbon no ok questa è la ribbon è la barra motifunzione poi nasconde la status bar e poi nasconde poi mette il focus sulla barra laterale di sinistra e la nasconde la finestra corrente ok quindi ritorna disabilita bar instrumenti uguale true poi però che cosa fa ecco a questo punto torna il controllo alla all'autoexec l'autoexec niente parte la finestra iniziale ok attimo di pausa secondo ecco nelle proprietà evento della maschera iniziale noi prima ci siamo concentrati subito sulla routine evento timer ma la prima che scatta è l'apertura cioè la load andiamo a vedere cosa fa ecco vedete come ci aspettavamo mi pone la clessidra a true quindi visualizza la clessidra e mi imposta questo è importantissimo vedete il timer intervallo a 5000 cioè 5000 millisecondi uguale a 5 secondi se lo volete a 3 secondi impostate su 3000 ovviamente quindi la routine evento form open di finestra iniziale scatta prima chiaramente dell'evento timer quando scatta poi il timer viene a zerato il timer intervallo e quindi non scatterà più da quel momento in poi ok e quindi qua si decide quale finestra deve essere visualizzata ora la proprietà visualizza finestra iniziale invece viene definita vediamo ecco visualizza finestra iniziale in realtà non è una variabile ma è una funzione anche questa è una funzione vedete che sta nel modulo 1 che cosa fa la funzione definisce un oggetto dow property vedete il prp che l'aggiunge al documento corrente ok vabbè qui c'è un container database in sostanza si tratta di flag di variabili personalizzabili che si possono aggiungere direttamente alla struttura del database corrente ok quindi se non esiste la prima volta viene comunque creata vedete doc property visualizza uguale a fails allora viene creata qui vedete ecco qui sotto nell'errore che nell'errore dice proprietà non trovata allora viene fatto un set prp uguale doc create property il metodo create property dell'oggetto doc crea la proprietà e la imposta a vero ok cioè praticamente fa sempre comparire la finestra informazioni la prima volta poi la seconda volta quando l'utente clicca sulla barra di sulla casella di opzione quella di consegno di spunta allora la variabile verrà impostata su face eccolo qua potete essere uguale a face visualizza finestra iniziale uguale a face e questo lo si vede dalla finestra introduzione vedete in introduzione quando si fa clic su ok questo qui si chiama questo controllo si chiama nascondi introduzione assoluzione è un nome lungo quindi cliccando su ok sul click quindi quando si chiude la maschera viene valutato lo stato della casinale di opzione e quindi se è su face allora la variabile visualizza finestra iniziale vedete che è la proprietà personalizzata viene impostata su face altrimenti su tutto e così via insomma con questo diciamo ecco insieme di tecniche di piccole tecniche si fa sì adesso faccio clic sul database esco e poi lo faccio partire direttamente ok maschera avvio temporizzata activi questa volta senza premere il tasto shift vediamo cosa succede quello che avete già sicuramente sperimentato all'inizio vedete per cinque secondi viene mostrata la finestra iniziale poi la finestra introduzione che dà alcune informazioni all'utente lasciamo pure disabilitata questa qui l'opzione ok ecco si arriva al menu principale ok questo ecco vedete che sono nascoste le barre quindi l'utente non può accedere alla barra degli strumenti né alla barra laterale bisogna dire che chiaramente se l'utente finale conosce il discorso dello shift non c'è pezzas quindi arriva al coach però vi anticipo già e lo vedremo in un successivo numero esiste anche la possibilità di bloccare l'accesso al database con il tasto shift però e poi c'è chiaramente c'è il modo anche chiaramente di arrivare a bypassarlo perché chiaramente se voi siete il programmatore dovete stare molto attenti quindi usate cautela perché il rischio qual è che voi stessi non riuscite più entrare nel tabese che state creando e quindi bisogna procedere con molta cautela comunque per quanto riguarda questo primo aspetto già vi diamo un'idea ecco di che cosa intendiamo per applicazioni poi chiaramente il menu generale si possono fare in vari modi si possono creare anche barre degli strumenti personalizzati ok sotto forma di un ribbon cioè di una barra multifunzione però con le icone che decidiamo noi visualizzare possiamo abilitare disabilitare alcuni pulsanti altri no si può fare tutto da codice il menu non è necessario che siano dei pulsanti di comando come in questo caso e che adesso sono disabilitati cioè non danno luogo niente ma possono essere per esempio delle etichette con la proprietà hyperlink quindi che assomigliano molto ai menu tradizionali no dove si fa click e viene fuori il menu a tendine eccetera e si aprono direttamente query maschere report eccetera poi chiaramente dietro ci sono tutti gli aspetti non estetici cioè quelli relativi alla sicurezza al ricollegamento del del front end nel caso che appunto cioè del back end scusate nel caso che appunto l'applicazione sia in forma di replica e quindi occorre andare a verificare da codici dove sono le tabelle potrebbero essere su un server mentre l'applicazione client si collega da un'altra postazione client e quindi e poi quelle della sicurezza cioè la login cioè l'autenticazione quindi si può prevedere sicuramente l'accesso alla maschera solo se l'utente inserisce user read password altrimenti non viene permesso l'accesso quindi vedete ci sono vari aspetti a tenere presente non da ultimo il discorso del record lock cioè del conflitto sapete che quando due client tentano di accedere allo stesso record di alla stessa tabella c'è da gestire appunto il blocco cosiddetto blocco pessimistico blocco ottimistico eccetera quindi andremo a vedere anche tutti questi aspetti ok che appunto determinano il comportamento di un'applicazione in rete ok di media complessità e dall'aspetto professionale per quanto riguarda l'argomento della newsletter quindi costruire applicazioni con access parte prima ci fermiamo qui www.m.gmail.com